Do work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job Vigor per conti bagnata, vigor per conti fortunata La battuta riesce facile visto il maltempo sotto il quale i ragazzi di Miccio hanno dovuto affrontare l'atterico gubbio Ma appunto battuta è e tale resta perché nel secco 3-0 rifiliato ai campioni Umbri la buona sorte è contata veramente poco Quasi nulla rispetto alla prova di carattere, intelligenza e rara maturità calcistica messa in mostra da Eblaugrana Gara che per la verità non parte fortissimo infatti all'ottavo il primo tiro verso la porta è la punizione di Ribadi Che si alza di molto sopra la traversa È di fatto il primo pallone toccato dal numero 9 di Miccio che statisticamente ogni due occasioni una la tramuta in oro Questa volta li capita il 22esimo quando un rimpalo tra Fumaria e Scioti finisce con l'innescare il bomber Braugrana Che sentenzia Giacometti con il gol del 1-0 È il gol che spacca in due una gara che al 25esimo il signor Angelucci è costretto addirittura a sospendere per qualche minuto A causa della grandine Quando si rientra in campo la vigor però trema perché Camilletti avrebbe sul destro il pallone per l'1-1 Ma lo spedisce ad un soffio dal palo La ripresa si apre invece con i ragazzi di Miccio nuovamente propositivi nonché incredibilmente letali Già al terzo il raddoppio potrebbe arrivare sugli sviluppi di un corner che Bruno non riesce a deviare per questione di pochissimi centimetri Al successivo giro di ruota però la vigor colpisce Il cronometro indica il settimo quando Pier Marini fa passare il suo calcio di punizione da posizione defilata In mezzo a una selva di gambe Indirizzandolo preciso dall'angolino e bucando letteralmente la porta I Braugrana fiutano l'occasione di dilagare e lo fanno neanche tre giri di lancette dopo aver risultato per la seconda volta La punizione di Bruno è infatti un cioccolatino che fa solo scarta di testa Staccando la terza del secondo palo e giustiziando per la terza volta l'adretico Gubbio Quando gli Umbri metabolizzano il triplo svantaggio sembra troppo tardi Camiletti prova a scuotere i suoi prima al dodicesimo e poi al diciassettesimo Ma in entrambi i casi la mira non l'assiste Le polveri le ha bagnate anche di Cato al ventiduesimo Quando il direttore di gara gli consegna un calcio a due in area per il retropassaggio di Lauri verso Alfieri Alla battuta va il numero 11 che però spara sopra la traversa l'opportunità di rimettere suo in partita Ci prova allora la vigora a scappare ancora ma di Bari questa volta non riesce a rincrociare bene il proprio diagonale E nel finale l'adretico prova il tutto per tutto Nel lungo recupero infatti Alfieri deve chiudere su Tosti prima che batte l'inno grazie sul tapin Mentre al trentasettesimo il numero 8 va ancora a vuoto sul cross consegnatoli sul secondo palo da Bazzucchi E l'ultimo brido poi sono le sultanze e soddisfazioni La Vigor per Conti fa il suo primo round di un girone nel quale ora potrà mettersi alla finestra E vedere cosa succederà nel prossimo turno Poi di nuovo in campo per chiudere la pratica e poter conquistare un biglietto di reazione di Final Six La strada è ancora lunga ma intanto la curva Umbra è stata superata Vigor per Conti bagnata, Vigor per Conti bravissima Vigor per Conti